Bella a tutti ragazzi! Questo è... The Ninja Show! Eh sì! E siamo arrivati... Siamo arrivati al nostro punto di nuovo Eravamo già prima a 30 iscritti Ma... Due stronzi! Si sono disiscritti E ora sono... Tornati 30 iscritti Forse siamo a 31 se non sbaglio Forse 32 è buono E putta Ecco E niente Iniziamo Dominio Bello La mappa che mi sta più sul cazzo sempre Combine Speriamo che non esca quella Ah beh comunque Devo salutare Due stronzi Allora Iniziamo per il primo Alessandro Pezzoni Presente Gabriele Bonardi Presente Cioè sto incazzato Ma non ve lo immaginate Ho fatto giusto una partita prima per provare Per provare Per provare Guarda che prendono B Idioti Guardalo Ma guarda Cos'è dai No la pistola La pistola La pistola è come un cecchino qua no Bebe be 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 nero Ma che cazzo fai guardalo Guardalo ma che cazzo fa Ma che cazzo fa Umban Kill, madonna, 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 eccolo, dove cazzo scappi, vabbè comunque, volevo parlarvi un attimo de, della porca puttana, dei, dei tre proci, bastardi, praticamente, volevo parlarvi un po' di questo gioco, che è una merda, soprattutto Dominio, che fa, che, 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 madonna, puoi ruotare nell'acqua, Nell'acqua, è inutile, guarda i pesciolini, e finisce il round, questo gioco è una merda, è una merda, è una merda, è una merda, non si può giocare a questo gioco, guarda, le mappe sono fatte male, cosa sono i cervi morti, oddio, come cazzo si fa, E c'è l'intervallo, su Black Ops 2, c'è, hanno, hanno messo l'intervallo, non so se è da Black Ops 2, è d'agosto, da Advanced Warfare, hanno messo l'intervallo, ma a che cazzo serve l'intervallo? Cattura le zone e difendile, criptochiavi doppie, ma che cazzo dici? Ma sto gioco sta dando i numeri, eh, vedi, 50, ma che cazzo dice? Vabbè, niente, sto gioco è una merda, è la solita merda, la solita merda, la solita merda! Assist? Ma vaffanculo, va, ma a me dai assist, a me, a The Ninja Show dai assist, perché non lo dai a Nutter? Che nome di merda, Nutter, ma chiamati The Ninja Show, no? Madonna Sì, mi sto incazzando un po', ma scusatemi, eh, sto gioco è una merda, ma che cazzo fai? Ma per piacere, ma cosa fai? Ma no, ma ho cazzo io, no, aio, 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 aio la mano, aio, aio la mano, aspetta, 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 aio la mano Qualsiasi, ma guardano lì, guarda, contadino sull'erba, fermo, contadino di merda, contadino di merda, pascolare, raspare lì, fermo, immobile, spawno, spawno e muoio, spawno e muoio Oh, Cristo, Black Ops 2, no, Black Ops 3, 2016, 70 euro, spawno e muoio, ma vaffanculo, va, ma vaffanculo, va Guardalo, va, no, appena esce, appena esce, appena esce Dov'è, 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 dov'è Ruhan, ma vaffanculo, va, ma che cazzo è, Ruhan, cosa cazzo Ma mi stai pigliando per il culo Eccolo, è qui, lo vedo, lo vedo, no, 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 il contadino, il contadino, sdraiato, contadino di merda Madonna, immobile, sdraiato, sdraiato, bebe bello, no, col nuovo Black Ops 3, togliamo i camper, togliamo quello No, non togliete un cazzo, assist, chi, chi l'ha ucciso, ho fatto assist, chi cazzo l'ha ucciso, sto cazzo Madonna, mi sto incazzando, mi sto incazzando Ma vai, affanculo, ma che cazzo, no, 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 non ci posso credere Ah, ecco, eh, beh, 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 ritorno, ritorno, ritorno No Ma chiamati The Ninja Show, per piacere, per piacere Ritorno, ragazzi, eh, eh, no, siamo in positivo Siamo in positivo, ragazzi, siamo in positivo Finalmente Ecco che Vabbè, affanculo, va Come fai a giocare in un gioco così? Come fai? Come fai? Obiettivi raggiunti, pronti a evacuare Obiettivi raggiunti? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma basta di restruzzate! Basta, 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 sono tutti i coglioni, basta, finito il video, basta